Buongiorno, sono Luigi Pavia del Distretto Tecnologico Campania Bioscience. Vi aspettiamo il 6 aprile presso la Sala Agora della Mostra d'Oltremare con un seminario dedicato alle opportunità per la digital health. Il Distretto Campania Bioscience, da gennaio 2017, è partner di un progetto europeo cofinanziato dalla Commissione Europea chiamato InnoLabs, costituito da 8 grandi cluster internazionali con l'obiettivo di portare nuove soluzioni tecnologiche nell'ambito della salute personalizzata, mHealth e digital health. Questi sono settori chiave per la società civile europea sia in termini di costi sia in termini di benessere del cittadino. Ci aspettiamo attraverso l'implementazione di iniziative quali Hackathons e Open Contest Idea Events di raccogliere più di 100 idee innovative in questi settori e cercare di supportarle portandole al mercato sia con supporto finanziario sia con servizi specialistici che saranno forniti dai partner del consorzio. Aspettiamo voi e le vostre idee il 6 aprile, Sala Agora alle ore 14. Grazie a tutti.